La recitazione tocca di nuovo all'ITC Battisti, sono Matteo Scalavutta e Aaron Damian che ci propongono un pezzo tratto dal grande editatore di Charlie Cepi. Qualsiasi riferimento a fatti e persone non è puramente casuale. Un barbiere ebreo reluce dalla Prima Guerra Mondiale, dimesso dall'ospedale, trova la sua tomania sotto la dittatura di Adeno e Hinchel, che sogna di conquistare il mondo. Il barbiere, grazie alla sua somiglianza con il dittatore, si sostituisce a quest'ultimo e si ritrova ora a dover pronunciare un discorso per l'inizio dell'invasione. Ora devi parlare! Non posso! Devi, è la nostra sola speranza. Speranza... Mi dispiasta. Ma io non voglio fare l'interatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci di un altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha rinato i nostri cuori. Ha precipitato il mondo nell'odio. Ci ha condotti al passo d'occa a fare le cose più ardiente. Abbiamo i mezzi per spaziare ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici. La verità ci ha risotturi e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci servono umanità. Più che abilità ci servono bontà e gentilezza. E senza queste qualità la vita è violenza. Di tutte. L'aviazione e la radio hanno ravvicinato il genere. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà dell'uomo. Reclama la fraternanza universale e l'unione dell'umanità. Per finora la mia voce raggiunge i migliori di persone nel mondo. Milioni di uomini, donne e bambini disperati. Vittime di un sistema che impune agli uomini di torturare e imprigionare genti non genti. A coloro che mi odono io dico non disperate. L'avicità che ci comanda è solo un male passeggero. L'amarezza di uomini che timono nel dire col resto umano. L'oro degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto il popolo ritornerà al popolo. Di qualsiasi mezzusino la libertà non può essere soppressa. Soldati! Non cedetane ai brutti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini in macchina, con macchina nel vostro cervello del cuore. Voi non siete macchine. Voi non siete bestie. Siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto Il regno di Dio è nel cuore del voto. Non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, voi, il popolo, avete la forza di fare, di creare le macchine. Di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e libera. Di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, nel nome della democrazia usiamo questa forza. Uniamoci tutti. Combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore. Che dia a tutti gli uomini lavoro. Ai giovani un futuro. Ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose. Nei bruti sono andati al potere. Mentivano. Non hanno mantenuto quelle promesse. E mai lo faranno. I dittatori, forse, sono liberi. Per creare uno schiavo al popolo. Allora, combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo. Eliminando la vita. L'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole. Un mondo in cui la scienza e il progresso viene a tutti i miei amici per essere. Soldati! Nel nome della democrazia. Siete tutti uniti! Bravo! Grande! E 그래서 più…